Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Music is a meta! This is the voice of your night. Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM. Let's begin, let's begin. Mezzanotte e 47 si esibisce con il nostro, insieme al nostro Emiliano? No. Paolo Roberto Tatechino! No, neanche. Lui è Miliano By Night, mezzanotte e 47, Emilio Colantoni, lo sento te. Valeria Pieroni canta una canzone che è di Gianluca Grignani, che è stata poi rifatta anche da Laura Pausini, quindi lei canta Destinazione Paradiso, quando il nostro mister è pronto ci pensa direttamente lui, perché adesso in diretta qui su Radio Radio, mezzanotte e 47. Oh, una Laura Pausini non ce n'è mai capitata, la sentiamo. Radio Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Eccola qua, la sentiamo in diretta. Fino alle 2 dal Flanagan's, mezzanotte e 47, mi raccomando. Mi raccomando cosa? Non so. Mi raccomando. In modo di dire. In modo di dire, esatto. Attenzione anche. In questo giro tondo d'anime Che si volta e penso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io. E per raggiungerti ho dovuto correre Ma più mi guardo in giro e vedo che C'è un mondo che va avanti anche se Se tu non ci sei più Se tu non ci sei più E dimmi Perché In questo giro tondo d'anime Non c'è, no Un posto per scollarsi via di dosso Quello che c'è stato detto è E quello che oramai si sa E allora sai che c'è C'è Che c'è 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 che prendo un treno che va A paradiso città E vi saluto a tutti E salto su Prendo un treno E non ci penso più Un viaggio assento solo Senza ritorno se non in volo Senza fermate nei confini Solo orizzonti neanche troppo lontani Io mi prenderò il mio posto E tu seduto lì al mio fianco Mi dirai Destinazione paradiso C'è Che c'è C'è che prendo un treno che va A paradiso città Io mi prenderò il mio posto E tu seduto lì al mio fianco Mi dirai Destinazione paradiso C'è Che c'è C'è che prendo un treno che va A paradiso città Io mi prenderò il mio posto E tu seduto lì al mio fianco Mi dirai Destinazione paradiso Paradiso città Radio Radio By Night Roma 104.5